Mi ricordo, dove ci siamo solo? Bene. Da bere? Le porto qualcos'altro? No, grazie. Aspetta ancora qualche minuto. Scusami, sono stato in ospedale a trovare l'operario che si è fatto male. Devi anche avvisarmi che facevi tardi. Stavo per andarmene. Scusa, scusa, non ho visto l'ora. Ok, io capisco tutto, Gabriele. Le visioni, le paranoie, che ti fai? Non sono paranoie! Come fai a dire che sono paranoie? Va bene, chiamole come vuoi. Però così non va. Prima che partissi e te avevamo dei progetti. Ti ricordi? Certo, sì. Sì? Davvero? Sì, davvero, sì. Da quando sei tornato? Saremmo stati insieme in meno di due ore. Non mi ha raccontato quasi niente del tuo viaggio. Michela, sono qui solo da tre giorni. E ti rendi conto di quello che sta succedendo o no? Eh. Pensavo di essere una priorità per te. Federico, basta! Vatti a sedere, forza. Scusate, non sto fermo un attimo. Te la tolgo. Gabriele. Gabriele. Non ti senti bene? Non c'è l'aria. Oio! Che vuoi da me? Che vuoi da me? Che vuoi da me?